Allora, stanno mettendo in votazione le espulsioni del Consigliere dello Stato per essere tutti. Allora, apro le maltezioni, ho avuto un segreto. Aggiungiamo il Consigliere dello Stato per essere tutti. non mi ha fatto intervenire non mi ha fatto intervenire non mi ha fatto intervenire guarda che hai fatto una gravità no, dovete votare devi votare stiamo votando l'istruzione ti denuncerò ma vai, vai passino questa è una impressione allora voglio imparare ma io ho già detto basta 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 mi deve fare intervenire io non ho rinunciato non mi hai fatto intervenire non mi ha dato la parola ma non mi hai schiacciato là non mi hai fatto intervenire controlla il tuo pulsante invece della tua cinepresa avete votato? non mi ha detto no, 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 no come no? no, no, no la tranzatura è rinunciata voglio essere vicino la tranzatura non è potente è un accuso non mi hai fatto intervenire il primo è un accuso il consiglio è chiuso prendi 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 le vie e